8 in carcere, 7 ai domiciliari, 22 indagate a piede libero, tra cui 4 minorenni, 29 perquisizioni nell'ambito di un'operazione di polizia denominata Retarius, contro lo spaccio di marijuana, hashish e cocaina nell'area di Piazza Armerina. La droga fluiva nella città dei mosaici da diverse direttrici Catania, Ramacca, Barrafranca, Valguarnera, Caropepe e San Cono. L'attività investigativa svolta dai poliziotti, squadra mobile di Enna, commissariato di Piazza Armerina, con la collaborazione della mobile di Catania, di altre articolazioni della questura di Enna, del reparto prevenzione e crimine Sicilio-Occidentale di Palermo e delle unità cinofile antidroga della questura del capoluogo siciliano e coordinata dalla procura di Enna, consentito di individuare una rete di persone che tra la fine del 2016 e il primo semestre 2017 operava tra Piazza Armerina, i centri limitrofi e la provincia di Catania per acquisto, trasporto, detenzione e commercializzazione di ingenti quantitativi di droga. L'indagine si è protratta per circa nove mesi, periodo in cui sono stati effettuati numerosi arresti. Tra gli indagati anche diversi minori per i quali i poliziotti stanno eseguendo su disposizione della procura presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta perquisizione notifiche dell'informazione di garanzia.